Musica Telespettatori di Stela TV, buonasera, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione. Andiamo a vedere insieme quali sono le notizie principali di questa giornata con i titoli del sommario. Traffico internazionale di droga, arresti anche a Bergamo, sequestrati beni e proprietà per milioni di euro, commercianti cinesi trasferivano il denaro all'estero. Selvino piange il suo sindaco, si è spento questa mattina 35 anni Diego Bertocchi, da tempo era malato di SLA. Ha provato il PGT di Bergamo, le minoranze, superficiale, critiche anche dai cittadini sulla questione aeroporto. A Bagnatica, residenti vestati dai cattivi odori, nel Lamirino l'attività produttiva della Montello S.P.A. Buon compleanno Atalanta, 116 anni e non sentirli. Domenica si torna in campo, arriva la Genoa. Apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Milano ha sgominato un traffico internazionale di droga tra l'Italia e la Spagna. Una fita rete di spaccio di marijuana e hashish per circa 30 tonnellate. Le fiamme gialle hanno ricostruito un giro d'affari da 42 milioni di euro, che ha portato a 58 provvedimenti tra fermi e arresti anche in Bergamasca. Un'operazione che ha visto impegnati 400 agenti in 14 province italiane, con l'ausilio delle unità cinofile. Gli arrestati sono di nazionalità italiana, spagnola, albanese e cinese. Quest'ultimi in particolare offrivano servizi bancari abusivi. Raccoglievano il denaro da trasferire in modo anonimo in Spagna, dietro il pagamento di una commissione. Ci trasferiamo a Vertova. Ancora droga nel mirino delle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Fiorano al serio hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di 20 e 21 anni. Operai italiani con precedenti, entrambi sospettati di essere responsabili di detenzione ai fini di spaccio di hashish. I militari in due diverse operazioni, in servizio di prevenzione in Val Seriana, hanno controllato i due giovani mentre stavano camminando in strada. E hanno trovato addosso un panetto di hashish di 80 grammi a uno e 40 grammi all'altro. E avevano tentato di far sparire, gettandolo tra i cespugli. I carabinieri hanno controllato anche le abitazioni dei ragazzi, trovandovi altra droga, oltre a un bilancino e materiale per il confezionamento. I due sono stati processati per direttissima al Tribunale di Bergamo e la giudice ha disposto l'obbligo di firma alle stazioni dei carabinieri di Gandino e di Glusone. Per mesi si approvvigionavano di farmaci, distraendo i dipendenti delle farmacie e sottraendo i medicinali con l'aiuto di complici per non essere visti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e fermato gli autori di una serie di furti in 10 farmacie della provincia di Bergamo, perpetrati a partire da luglio, per un valore di diverse migliaia di euro. Le indagini sono state condotte mediante la visione delle telecamere, dei circuiti di videosorveglianza e delle farmacie colpite e delle telecamere di pubbliche installate sul territorio comunale, nonché con specifici servizi di appostamento e pedinamento. Sono così stati ricostruiti gli spostamenti dei ladri, identificati due donne e tre uomini di nazionalità colombiana, venezuelana, tutti maggiorenni, irregolari e gravitanti tra le province di Bergamo, Milano e Roma. Selvino piange il suo sindaco Diego Bertocchi è morto questa mattina all'età di 35 anni. Da tempo era affetto da SLA, aveva avuto un peggioramento progressivo negli ultimi due anni. Era stato eletto primo cittadino nel 2014 a soli 26 anni tra i più giovani della provincia e poi riconfermato alle elezioni del 2019. Nonostante la malattia aveva continuato a presenziare agli eventi ufficiali del paese e coordinato le attività della sua giunta, l'ultima proprio sabato da remoto. Bertocchi era sposato con Giulia Parma ed era padre del piccolo Carlo Emidio di soli 5 anni. Laureato in economia e commercio, era stato presidente dell'Assemblea della comunità montana-valle seriana e aveva anche militato come calciatore nella nuova Selvino con il ruolo di centroavanti. La Camera Ardente è stata allestita nella sala consigliare del municipio, mentre le esegue si terranno venerdì 20 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale Cordoglio. È stato espresso da tutto il mondo politico bergamasco. Ed ora invece torniamo a Bergamo e parliamo del PGT che è stato approvato ma ha scatenato dei contrasti. Innanzitutto da parte della minoranza che lo sottolinea, lo definisce come superficiale, ma poi anche i cittadini in particolare arrabbiati per la questione. Aeroporto, sentiamo. La notizia di cronaca è che il PGT del Comune di Bergamo è stato approvato, ma in retroscena, come sempre quando si parla di piano di governo del territorio, sono tanti. Il primo, strettamente legato alla notizia, è che le minoranze hanno votato contro, definendolo superficiale, tardivo, scarsamente partecipativo. Aggettivi spesso utilizzati in questi frangenti, diventati ancora più convinti, essendoci all'orizzonte le elezioni per il nuovo sindaco. Tra gli emendamenti bocciati dalla maggioranza ci sono quelli anti-moschea e quello a tutela di città alta, scaduto da dieci anni. Per la maggioranza, invece, si tratta di un PGT coraggioso, che ne impreziosirà la Bergamo del futuro, partendo da basi solide. Il secondo, retroscena, che ha scaldato l'aula a consigliare, è invece quello relativo all'ampliamento dell'aeroporto. Tema che lambisce soltanto il PGT, ma riportato in auge da una settantina di esponenti dei quartieri limitrofi allo scalo, che, forse per la prima volta, si sono uniti per protestare contro la giunta Gori. Rea ha detto a loro di aver dato il proprio ok urbanistico al piano, sebbene mancassero ancora diversi elementi cruciali, come l'indagine epidemiologica e la zonizzazione. Prima, con un presidio fuori da Palazzo Frizzoni e poi, all'interno dell'aula a consigliare, i cittadini hanno mostrato cartelli di protesta e distribuito volantini e consiglieri, spiegando le loro ragioni e ribadendo la vita insostenibile che affrontano quotidianamente, con voli sopra le case giorno e notte, senza rispettare limiti di orari e di decibel. Il sindaco e l'assessore all'urbanistica Valesini hanno incontrato alcuni rappresentanti, promettendo impegno a far rispettare le norme, a cominciare dal mantenimento dei quartieri interessati fuori dalle rotte aeree. I toni si sono alzati da parte dei cittadini, usciti poi dall'aula, soddisfatti giusto giusto per essere riusciti a far fronte comune e per aver attirato l'attenzione di gori, ma in pratica di reale fiducia nelle istituzioni ne hanno portato a casa davvero poca. E a proposito di cittadini contrariati, andiamo a Bagnatica, dove i residenti sono particolarmente vessati dagli odori molesti e nel mirino c'è la Montello SPA. Quando a Bagnatica cala la sera, si alza la puzza. La denuncia dei cittadini esasperati da un problema che persiste da più di due anni incontra i ritardi nell'arginare la situazione della Montello SPA, la ditta di smaltimento rifiuti individuata come la responsabile dei disagi. Se è vero che l'azienda ha investito 4 milioni di euro per intervenire con misure di contenimento, la proroga dell'inizio dei lavori, unita all'incertezza circa la loro effettiva utilità per ridurre le emissioni, suonano un po' come una presa in giro agli abitanti. Sono arrabbiata, spero che non sia una presa in giro e che le cose vadano in porto alla svelta, più che altro per i nostri figli che subiscono un po' oltre a noi, i vanziani. Speriamo che facciano in fretta, insomma, e che intervenga bene l'ARPA che gli stia addosso. Non è proprio di ripresa in giro, però quasi, perché dici loro non promettete niente, che si farà presto. Nell'attesa dei lavori, quello che rimane è la puzza intollerabile, che fa vivere male e sentire peggio i cittadini di Bagnatica. Si vive male perché quando stendo i vestiti devo ritirarli perché puzzano. Mio figlio abita a Cenate, arriva giù, fa mamma, c'è una bella differenza anche solo il respiro, così, una cosa... Si sente tantissimo, specialmente di notte, ovviamente adesso che le porte verranno chiuse per il freddo, non sarà più così, ma è impossibile, ma di notte ed estate è veramente una cosa indecente, ci si sveglia dalla puzza che si sente. È molto fastidiosa, bisogna chiudersi bene in casa. Si può vivere così? No, sarebbe meglio di no, non è che non riesci a vivere, però si vive male. Tu apri le finestre e ti entra quell'odore lì che è marcio. Non è affatto bello perché comunque ti debilita un po' e secondo me ci siamo anche quasi abituati a questa puzza costante e non ce ne rendiamo più neanche conto. Viviamo in collina, viviamo vicino anche alla natura, insomma, però sembra di essere in una zona quasi industriale a sentire questi odori persistenti. Torniamo a parlare dell'omicidio di Walter Monguzzi, che era stato speronato con la sua moto a Montello. L'automobilista che lo aveva urtato si è difeso in aula durante il processo. Sentiamo. Una questione di secondi e di fatalità. Quel giorno di ottobre del 2022 a Montello, Vittorio Belotti era una panda e Walter Monguzzi in sella ad una moto. Una precedenza non data, un diverbio, un semaforo che si accende e due versioni dei fatti. Fino a quel punto le telecamere hanno ripreso tutto. Poi un buglio di cinque secondi. Il server in tilt, dicono in udienza. Il filmato riprende con Monguzzi per terra, falciato da una BMW proveniente nel senso opposto, che è riuscita ad evitare la moto, ma non il motociclista, che muore poco dopo. Incredibile perché quei cinque secondi mancanti avrebbero potuto raccontare la verità, ovvero dimostrare se la vittima sia caduta dalla moto perdendo l'equilibrio mentre scalciava con rabbia la panda, oppure, come l'accusa vuole dimostrare, sia stato il Belotti a tentare volutamente di speronare la moto. In ogni caso, la morte è sopravenuta non per la caduta, ma per l'auto che l'ha travolto, che andava a 70 all'ora in una strada con il limite di 50. Se avesse rispettato il codice, avrebbe evitato l'uomo in terra? È un quesito importante, così come la questione droga. Belotti risultò positivo al test per l'uso di cocaina. L'intercettazione dal carcere lo ascolta mentre ai compagni di cella ammette di aver avuto cinque dosi in macchina. In aula ritratta, anche se ammette di aver assunto droga il giorno prima. Succedeva una volta all'anno, dichiara davanti al giudice. Anche questa una fatalità. In Città Alta, ora dove dalla Torre del Gombito sono caduti dei calcinacci. Ieri è stata transennata l'area per permettere ai vigili del fuoco di controllare oggi un altro sopraluogo per la stabilità della torre. Attimi di paura ieri pomeriggio in Città Alta quando, attorno alle 17, alcuni calcinacci sono caduti dalla Torre del Gombito. A staccarsi dalla duecentesca costruzione, tra i principali simboli del centro storico cittadino, sono stati pezzi di malte che servono a tenere uniti i mattoni e alcuni blocchi di pietra arenaria sformati dagli eventi atmosferici. Il materiale è caduto alla base della stessa torre, dal lato di via Gombito, il più frequentato dall'agente, ma fortunatamente nessun passante è stato colpito. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco con uno degli agenti che ha scalato l'intera parete della torre, incordata, raggiungendo il suo tetto, 52 metri d'altezza. Un sopralluogo utile a capire l'entità del danno. Un'ora di intervento con l'ausilio della polizia locale di Bergamo che ha transennato l'area interessata dalle macerie. Oggi in mattinata altro sopralluogo per capire come mettere in sicurezza la parete degradata e soprattutto agire per mettere in sicurezza eventuali altri cedimenti, dato che quello di ieri non sarebbe il primo. Si starebbe pensando ad una protezione sul lato di via Gombito, più voluminosa dell'attuale, ma naturalmente idonea al patrimonio storico del luogo in cui sorge. C'è una crisi ed è quella della natalità. Nascono sempre meno figli per un problema sicuramente socio-economico, ma per tante famiglie è un problema anche il concepimento. Allora ecco che Regione Lombardia scende in campo con un piano per aiutare le famiglie, in particolare le famiglie over 40. La crisi della natalità si fa sentire anche sulla crescita economica. Gli effetti del calo delle nascite si riversano sull'intero sistema finanziario e produttivo. Secondo le proiezioni dei dati Istat, il grande impatto del calo demografico arriverà nel 2025. La curva è infatti decrescente da anni, ma ha subito un'accelerazione dal 2020, probabilmente anche a causa della pandemia e delle accresciute incertezze socio-economiche a livello globale. Le famiglie si rimpiccioliscono. In Bergamasca si è passati da una media di 3,4 componenti negli anni 70 a 2,2 nel 2022. Aumentano quindi le coppie senza figli o con un solo figlio e parallelamente cresce il numero di anziani. In Lombardia si è passati da quasi 100.000 nati nel 2012 a poco meno di 70.000 nel 2022, un calo del 30%. Tanto devono fare le aziende per mettere in atto pratiche di conciliazione lavoro-famiglia, come orari flessibili, part-time, nidi aziendali, smart working, perché spesso si è portati a provare ad avere figli tardi a causa dell'incertezza lavorativa e della carriera e questo rappresenta uno dei principali fattori di infertilità. Ecco che allora Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di quasi 14 milioni di euro per un programma di sviluppo per favorire la natalità, a partire dalla salute riproduttiva, che prevede iniziative come la possibilità di crioconservazione dei gameti per le giovani coppie, ampliamento dell'offerta di screening ed esami prenatali gratuiti, l'implementazione delle visite a casa a cura delle ostetriche e dei consultori. È una delle iniziative che abbiamo adottato come giunta della Regione Lombardia proprio per cercare di fronteggiare quello che secondo me è il problema più importante non solo per questa regione ma per tutto il Paese, il problema appunto della natalità. Tutte le donne che saranno in gravidanza e che devono fare una serie di esami preventivi durante la gestazione per esami genetici, esami quindi per avere la certezza che poi il proprio bambino sarà sano oppure si dovrà intervenire per evitare ulteriori complicazioni, tutti questi esami cercheremo di renderli tutti completamente gratuiti. E poi anche questa procreazione medicalmente assistita che è un altro passaggio al quale si avvicinano parecchie coppie e anche questo è estremamente oneroso da un punto di vista economico. Anche questa iniziativa cercheremo di renderla, se non completamente gratuita, quanto meno a costi assolutamente accettabili per tutti. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo più tardi per parlare del compleanno dell'Atalanta. È una bella iniziativa di Bergamo Scienza per gli studenti e poi il ristorante più famoso di Bergamo. Restate con noi. Ben ritrovati nella seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con l'Atalanta che oggi compie 116 anni, un compleanno di tutto rispetto, ma si pensa già anche al prossimo impegno che sarà quello con il Genoa. L'aria di sosta che tira su Zingonia per via della pausa imposta dagli impegni delle nazionali è stata scossa oggi da un grande respiro di festa perché l'Atalanta festeggia oggi il suo 116esimo compleanno. Era il 17 ottobre 1907, gli studenti liceali Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti davano vita alla società bergamasca di ginnastica e sports atletici Atalanta. È nel 1920 però la nascita dell'attuale Atalanta grazie alla fusione con la bergamasca che attribuì alla squadra la denominazione che porta oggi e i colori nero e azzurro. Una storia gloriosa nonostante i successi siano ridotti alla sempreverde Coppa Italia del 1963. Eppure da regina delle provinciali quale è sempre stata considerata oggi l'Atalanta è una squadra e ancora di più una società ammirata e temuta in tutta Europa perché da sette anni, da quando Gasperini si è seduto sulla panchina, la squadra di Bergamo si qualifica con regolarità e in Europa League o in Champions con ruoli da protagonista anche in Serie A. Un modello da sempre attento ai giovani e ai bilanci, ai traguardi misurati e ai passi mai più lunghi delle proprie possibilità. La gestione per Cassi ha segnato sicuramente un'epoca, un'era, una ventata di positività e di nuova atalantinità che sta invadendo anche i più giovani. La corsa della Dea è sempre più galoppante anche grazie al nuovo stadio in costruzione che darà una casa di proprietà di lusso per altri, si spera, 116 anni di futuro radioso. Il futuro più prossimo si chiama invece Genoa, prossima avversaria dei Nerazzurri che arriverà al Gewis domenica alle 18. I nazionali rientreranno alla spicciolata e il match dopo la sosta, purtroppo si sa, è spesso indigesto ai ragazzi del Gasperi, ma chissà che nel pacchetto regalo per questo compleanno non ci possono essere tre punti. 150 studenti hanno trascorso la notte nelle aule scolastiche, che non è successo per un problema, ma hanno proprio voluto trascorrere questa notte in compagnia delle attività di Bergamo Scienza ed è stato un vero successo. Questo weekend la scuola è rimasta aperta anche di notte. Stiamo parlando dell'Istituto Paleocapa che nella cornice di Bergamo Scienza ha coinvolto 150 bambini e ragazzi in esperimenti di realtà aumentata, giochi con robot, automazione, camere immersive, laboratori chimici con sostanze cambia colore e fiamme, per imparare la scienza giocando e accendere la scintilla della curiosità tra i più piccoli. La scienza mi sta iniziando a piacere un po' di più e anche queste cose che ho fatto adesso di robotica sono molto belle. La cosa che mi è piaciuta di più oggi è fare il robottino. Gli esperimenti che abbiamo fatto tipo con sale e molti altri composti. Gli esperimenti col fuoco. Stasera abbiamo fatto delle cose che non mi aspettavo. Abbiamo parlato della chimica, cosa che a me piace tanto, infatti io vorrei studiare qui. Di solito ho visto la scienza come non tanto divertente, una disciplina in cui bisognava tanto studiare, invece il resto è anche un gioco. Mi è piaciuto molto imparare cose nuove e non come a scuola, ma in modo diverso e più divertente. Fino alle 24 di sabato sera, 30 studenti dell'Istituto Paleocapa hanno indossato i panni degli insegnanti, accompagnando i più piccoli nei loro primi passi sulla strada della scienza. Mi sono offerta di passare il sabato sera qua a scuola per presentare dei progetti. I bambini e i ragazzi erano molto stupiti ed è stato molto bello vedere delle persone, dei bambini e anche gli adulti interessati a quello che comunque noi facciamo tutti i giorni a scuola. È molto bello vederli meravigliati dalla scienza, è una delle migliori passioni che si può avere nella vita e quindi è comunque un'emozione vedere che già da piccoli, quindi magari anche ragazzi, c'erano anche bambini magari dell'asilo o delle elementari che già si appassionano alla scienza. La famiglia Cerea, famosa in Bergamasca per aver portato da vittorio al top delle classifiche mondiali, ha ricevuto altri riconoscimenti. Sentiamo. Covid e crisi alle spalle, anche l'alta cucina delle stelle rialza la testa. Il 2022 infatti si è chiuso con un più 26%, 327 milioni di euro del fatturato globale, con una prevalenza degli incassi per i ristoratori con una stella Michelin. Tre invece sono le stelle della famiglia Cerea, che ha nettamente sbaragliato ogni concorrenza. Il ristorante della famiglia Bergamasca, titolare del celebre marchio Da Vittorio, ha fatturato circa 40 milioni di euro. Un risultato eccezionale, se pensiamo che al secondo posto di questa speciale classifica c'è lo chef Massimo Bottura, distanziatissimo, con 17 milioni di euro. I Cerea tre stellati curano il dettaglio, hanno un'enoteca che rasenta la perfezione, rispettano la tradizione nell'innovazione, ma soprattutto hanno avuto la capacità di diversificare. Oltre al ristorante di Brusaporto, due altre eccellenze a San Moritz e Shanghai, con due stelle Michelin e poi il catering con V-Cook, la pasticceria e la locanda Cavour in Città Alta, e i formati DAV a Milano e Portofino, oltre alla Cantalupa Bergamasca. In via di sviluppo anche il takeaway dei prodotti più ricercati, per portarsi a casa un profumo di straordinario. Obiettivo per i fratelli Cerea è di circa 800 collaboratori arrivare dagli attuali 70 milioni di ricavi globali a 100. Quale tempo ci aspetta nelle prossime ore? Lo scopriamo con le previsioni di Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, tempo in miglioramento sulle regioni centro-meridionali, si farà strada infatti anche qualche schiarita. Sulle regioni settentrionali, tempo che sarà in graduale peggioramento, a partire dall'alto versante tirrenico. Sulla Lombardia, dunque, un avvio di giornata nel complesso discreta, con ceri sereni o parzialmente nuvolosi. Ma tra pomeriggio e sera segnaliamo la possibile formazione di qualche fenomeno. Temperature massime di conseguenza, lieve calo di qualche grado, con punte intorno ai 16-17 gradi. Sulla provincia di Bergamo, un avvio di giornata con tempo variabile, ceri a tratti anche grigio e qualche possibile fenomeno sparso nella seconda parte del giorno. Temperature massime, lieve calo, con punte intorno ai 15-16 gradi. Nella giornata di giovedì, tempo ancora a tratti instabili, con qualche possibile fenomeno sparso e temperature che non subiranno particolari variazioni. Fase instabile che proseguirà anche nel corso dei prossimi giorni e nel corso del weekend, tempo che tornerà a migliorare con l'arrivo della nuova settimana. Quindi mi invito a restare aggiornati, come sempre, sull'app di Trebi Meteo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione. Vi ricordo che potete segnalarci le vostre notizie e i vostri aggiornamenti a redazione chiocciola.seilatv.tv Vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie 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 Grazie